Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Questa è la seconda parte di un video dedicato alle letture che ho fatto da febbraio ad agosto perché ho voluto parlare di tutti i libri che ho letto da quando ho deciso di prendermi una pausa da YouTube fino ad oggi o comunque fino al mese scorso quindi se vi siete persi quel video ve lo lascio qui così potete andare a recuperarlo e vedere quali sono i primi 10 libri dei quali ho parlato e adesso ci dedichiamo alla seconda parte ovvero agli altri 10 libri che ho letto fino alla fine di agosto prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e se non lo fate già mi raccomando seguitemi anche su Instagram se volete avere aggiornamenti sulla mia vita, sull'adozione, sulle letture che sto facendo mi trovate come Martina Tazza Cominciamo! Di nuovo il piccolo disclaimer che ho fatto anche nello scorso video alcuni dei libri dei quali vi parlerò li ho ascoltati con Audible perché stavo sfruttando un'offerta che c'era con loro poi l'offerta è scaduta adesso non ce l'ho più perché il prezzo pieno secondo me è troppo alto rispetto insomma a quanti libri riesco ad ascoltare quindi insomma alcuni libri li ho qui in formato cartaceo altri come sempre vi lascio l'immagine in modo da poter vedere la copertina partiamo infatti da un libro che ho ascoltato con Audible ed è Il potere del silenzio di Thich Nhat Hanh Thich Nhat Hanh non so se lo sapete è un uomo che è scomparso da poco, da pochi mesi credo ed è diciamo il creatore della mindfulness il padre della mindfulness la mindfulness è una materia che ormai lo sapete mi conoscete, mi affascina e mi interessa tantissimo tanto che è entrato ormai a far parte della mia vita quotidiana e quindi ho voluto recuperare qualcosa di suo su Audible c'era questo libro e l'ho letto nonostante alcune parti del libro che riguardano appunto la mindfulness fossero per me già conosciute c'è tutta la parte relativa proprio al silenzio che poi è il titolo del libro che è stato enormemente interessante perché parla per l'appunto di quel silenzio non dovuto a dobbiamo tutti ascoltare o bambini state zitti ma è un silenzio consapevole un silenzio che non è solo fuori quindi non parlare ma anche un silenzio interiore che ci permette di non perderci nel rumore dei ricordi del passato o nel rumore di quello che potrebbe accadere in futuro ma è appunto un silenzio di pace che ci permette di goderci appieno al momento presente in maniera consapevole è un libro interessante è un libro di quelli che fanno stare bene quindi ve lo consiglio ho poi letto Il cuore selvatico del Ginepro di Vanessa Roggeri credo un libro ambientato in Sardegna in realtà gli anni se non ricordo male qui non so se c'è scritto comunque dovremmo essere alla fine dell'Ottocento comunque un libro che racconta diciamo delle superstizioni delle famiglie contadine che si vedono colpite da una maledizione ovvero la nascita di una figlia nata in un giorno non propizio e come tutta la famiglia poi reagisce alla convivenza con questa bambina che doveva essere eliminata alla nascita ma che è riuscita in qualche modo a sopravvivere diciamo che è un libro che fa tanto riflettere noi l'abbiamo letto con il club del libro e ne abbiamo parlato veramente tanto perché ci sono tanti argomenti di cui parlare quindi l'importanza delle superstizioni soprattutto nelle famiglie contadine di un tempo come queste venivano affrontate quindi i vari riti sono emersi anche cose molto interessanti devo dire e qui si parla di una situazione che è veramente grave veramente pesante e che sicuramente ci porta anche a pratti a star male per lei diciamo che però questo libro non è perfetto perché c'è stata una lunga parte centrale in cui un po' mi sentivo annoiata nel senso che si ripetevano un po' le stesse situazioni quindi bello all'inizio bella alla fine un po' più noiosa la parte centrale e inoltre devo dire che ho notato che i personaggi secondo me non sono molto delineati o meglio ci sono due o tre personaggi che sono veramente ben sfaccettati ma tutto il resto rimangono un po' piatti sullo sfondo anche personaggi che invece sarebbe interessante approfondire quindi diciamo non un libro perfetto però tratta degli argomenti molto particolari quindi comunque non mi pento di averlo letto ho poi ascoltato di nuovo perché l'avevo già letto in cartaceo il magico potere del riordino di Marie Kondo non dirò molto su questo libro che parla per l'appunto del riordino ma soprattutto di come riuscire a liberarsi di tutto il superfluo di tutte le cose inutili che accumuliamo nelle nostre case l'ho letto in un momento in cui sentivo tanto bisogno di fare decluttering di fare pulizia di non lo so di liberare gli spazi e quindi mi ha fatto bene riascoltarlo ecco sicuramente non è una lettura profonda però secondo me ci sta se avete voglia di alleggerire un po' la vostra vita è importante io l'ho fatto ormai lo sto facendo da tanto tempo però mi piacerebbe farlo ancora di più perché più spazio c'è nella nostra casa e più ce n'è anche dentro di noi perché vanno via insieme alle cose inutili vanno via anche i pensieri inutili quindi l'ho trovata comunque una bella lettura ho poi ascoltato sempre su Audible due libri di Giuseppe Clozza credo si dica uno dei due l'ho anche comprato ovvero Lifefulness la pienezza della vita attraverso il buddismo come sapete è un argomento che per me è super interessante quindi siamo sempre un po' nella tematica mindfulness quindi sono argomenti insomma che un po' si ripetono nelle mie letture allora diciamo che sulla mindfulness è diventato un po' complicato per me trovare ancora libri che mi sorprendano che mi dicano qualcosa di nuovo perché ormai l'ho studiata approfonditamente però devo dire che questo l'ha fatto quindi per questo mi è piaciuto e l'ho voluto anche comprare perché appunto parla della mindfulness della consapevolezza del vivere qui e ora ma anche di altri argomenti che conoscevo un po' meno come ad esempio i mantra quindi è stato veramente molto molto bello un ascolto interessante che mi ha fatto stare bene che mi ha anche ispirata e mi ha fatto conoscere nuovi lati di questa materia che mi interessa molto per questo ho deciso di leggere anche il suo primo libro perché questo è il secondo che ha pubblicato il primo libro di quest'autore si chiama Felicità in questo mondo ma in questo caso la lettura mi ha un po' delusa nel senso che io ho capito questo che lui ha pubblicato questo primo libro e il libro ha avuto un grande successo dopo qualche anno ha un po' rimaneggiato gli stessi argomenti e ha pubblicato Lifefulness quindi in realtà ho ritrovato un po' le stesse cose che c'erano anche in questo quindi vi dico fin da subito che se siete interessati vi merita leggere uno solo di questi due perché tanto per l'appunto l'altro dice più o meno le stesse cose io ho deciso di comprare questo che è il secondo pubblicato semplicemente perché è il primo che ho letto io quindi è questo che mi ha dato maggiori informazioni che mi ha fatto emozionare di più e quindi ho deciso di portarmelo a casa anche in versione cartacea passiamo adesso a un altro genere in assoluto il domatore di leoni di Camilla Lekberg autrice di Gialli famosissima che ha avuto grandissimo successo con il primo libro che era La principessa di ghiaccio meraviglioso e qui ritroviamo gli stessi protagonisti perché lei ha scritto una serie dedicata a questi protagonisti che si trovano in qualche maniera a dover indagare su vari casi di omicidio ecco anche in questo caso abbiamo gli stessi protagonisti io oltretutto ho letto solo il primo libro e questo quindi la loro evoluzione dal punto di vista romantico perché poi sono una coppia è enorme quindi hanno fatto proprio cioè io li ho conosciuti che si erano appena finanzati quindi hanno già un bel po' di figli quindi è stato anche carino da questo punto di vista comunque il libro è un classico giallo quindi ci sono c'è un mistero da risolvere c'è una ragazza che viene trovata mutilata e in fin di vita e si deve capire da chi sia stata rapita e che cosa le sia stato fatto si deve riuscire a capire se altre ragazze hanno subito la stessa sorte allo stesso tempo Erika la protagonista sta indagando su un'altra storia sulla quale vorrebbe scrivere un libro e che parla appunto di un domatore di leoni e vediamo insomma come questi misteri in qualche maniera poi si intrecino allora a me la storia è piaciuta perché lei poi sa scrivere bene è intrigante quindi c'è sempre voglia di andare avanti soprattutto nella parte finale cattura quindi dobbiamo proprio leggere tutto perché vogliamo andare a vedere come va a finire ho trovato soltanto il finale forse un po' sopra le righe non voglio dire tanto perché appunto è il finale quindi vi rovinerei il bello però diciamo che io preferisco delle situazioni un po' più con i piedi per terra qui è veramente molto particolare però insomma diciamo che il libro è comunque bello si legge molto bene quindi se vi piace il genere vi piace l'autrice e magari avete anche altri titoli di questa serie sicuramente questo non deve mancare cambiamo di nuovo genere passiamo a un bel romanzo d'amore l'ultima lettera d'amore di Jojo Moyes io lo dico così chissà allora il libro si e no nel senso che io l'ho comprato senza ricordarmi che avevo già visto il film perché dalla copertina e dal titolo non l'ho riconosciuto ma quando sono andata a mettere il titolo su internet è venuta fuori il libro con proprio la copertina del film e allora lì ho ricollegato quindi io non so se sia stato perché avevo già visto il film e quindi conoscevo la storia o se l'avrei trovato in questo modo anche se non l'avessi conosciuta però io a tratti mi annoiavo lo trovavo un po' noioso non lo so perché perché la storia in realtà è anche bella e romantica e piuttosto particolare devo dire quindi è una di quelle storie che insomma dal punto di vista sentimentale prendono sicuramente anche il film rende molto l'idea però ecco io non avevo c'erano lunghi periodi di tempo in cui non avevo voglia di prenderlo in mano e leggerlo quindi ho fatto un po' fatica a finirlo diciamo che però non mi sento di sconsigliarvelo al 100% perché appunto magari era perché conoscevo già la storia ma se magari avete gusti simili ai miei non volete rischiare guardatevi il film perché è veramente molto bello altra lettura sulla quale dovrei parlare veramente molto cercherò di trattenermi è La casa sul mare celeste allora io ho letto questo è un fantasy quindi già capite che questo non è il mio genere e l'ho letto l'abbiamo letto con il club del libro non dobbiamo ancora parlare infatti non vi do l'ora di avere la riunione allora io so che questo libro è piaciuto tantissimo quindi non voglio dare un'opinione troppo forte perché non voglio ferire la sensibilità di nessuno perché lo so che quando ci è piaciuto tanto un libro si sente un po' come un nostro figlio quindi non vogliamo sentirne parlare quindi in realtà io lo capisco che questo libro possa essere piaciuto molto perché ha veramente ha dei lati molto interessanti e positivi purtroppo non rientra nei miei gusti partiamo dal fatto che è un fantasy non leggo mai fantasy per un motivo perché non è un genere che mi piace particolarmente quindi forse anche questo già nonostante sia partito molto bene a me stava piacendo all'inizio magari anche questo bisogna tenerlo in considerazione si parla di un orfanotrofio dove ci sono dei bambini che sono delle creature magiche praticamente e viene richiesto al protagonista che è un assistente sociale di fare un'ispezione e controllare insomma che i bambini vengano trattati bene e che vada tutto bene in questo orfanotrofio i personaggi non tutti mi sono piaciuti molto nel senso che il protagonista l'ho trovato secondo me aveva dei tratti del suo carattere che venivano raccontati secondo me che non combaciavano bene cioè non andavano molto d'accordo l'uno con l'altro e allo stesso tempo neppure i bambini che vengono descritti in questo libro mi sono piaciuti molto perché hanno delle uscite parlano come degli adulti a volte e secondo me si perde un po' quello che è il senso del libro ovvero la protezione di bambini innocenti bambini che sono bambini anche di testa questo viene ripetuto più volte in realtà a tratti ci ho trovato una comicità un po' forzata ho trovato secondo me delle scopiazzature nel senso che ricorda molto la casa dei bambini speciali di Miss Peregrine c'è la tematica del razzismo che io diciamo l'ho associata un po' al razzismo che si trova anche nei libri di Harry Potter mi faceva venire in mente altre letture nonostante io di fantasy me ne intenda poco quindi inoltre vengono dati degli insegnamenti di vita che secondo me vengono un po' infilati molto spesso perché questo avrebbe reso il libro più amabile non so come spiegarlo quindi io credo che questo libro sia molto adatto a dei lettori giovani che per l'appunto si ritrovano a leggere per la prima volta delle frasi del genere che li possano motivare ad essere delle persone migliori ma un adulto che più o meno queste cose le conosce già le ho trovate un po' ridondanti un po' scontate un po' banali cosa che invece non trovo in Harry Potter per esempio perché Harry Potter secondo me anche letto da adulto non ha niente di banale e di scontato spero di non avere offeso nessuno perché secondo me la storia è carina e anche le intenzioni sono buone gli insegnamenti sono molto belli secondo me è soltanto il modo in cui sono stati trattati che non mi è piaciuto particolarmente però ripeto è una questione di gusti perché il libro in realtà è piaciuto veramente molto quindi diciamo che se vi piace il genere non vi fate troppo guidare dalla mia opinione perché per l'appunto potrebbe non coincidere con quella della maggior parte delle persone e basta però se l'avete letto magari fatemi sapere perché sono curiosa l'ultimo libro che ho ascoltato con Audible è stato Non voglio più piacere a tutti di Maria Beatrice Alonzi una donna che io seguo su Instagram e che mi piace e non mi piace a tratti sì a tratti no è una donna con una voce meravigliosa che sa narrare veramente cioè si potrebbe ascoltare per ore quindi mi piace molto e ho deciso di leggere uno dei suoi libri non volevo comprarlo perché non sapevo se mi sarebbe piaciuto e quindi l'ho ascoltato in realtà il libro dove praticamente è tutta una similitudine una metafora diciamo di un viaggio in cui lei ci accompagna in questo viaggio in treno dove ci sono diversi passeggeri diverse tappe diversi bagagli e ci fa diciamo attraverso questo viaggio questa metafora capire quali sono quelle persone o quegli oggetti o quei ricordi che sono troppo pesanti per il nostro viaggio e che dovremmo lasciare andare e quali invece sono quelli importanti da tenere con noi diciamo che l'intenzione dell'autrice era appunto quella di scrivere un libro che fosse d'aiuto alle persone per ritrovare una maggiore serenità peccato che a me questo libro non sia arrivato perché io non l'ho capito in alcuni tratti perché queste similitudini queste metafore è tutto raccontato attraverso le immagini un viaggio metaforico quindi a tratti io mi ritrovavo a pensare sì ma che cosa mi sta dicendo in realtà cioè questo cosa dovrebbe significare e quest'altra situazione in realtà rappresentava cosa nella vita reale cioè è talmente tanto metaforico che si perde quello che è il succo quello che veramente ci voleva dire quello che veramente io posso applicare nella mia vita reale quindi nonostante per l'appunto sia una lettura un ascolto piacevole l'ho trovato un libro che non mi ha lasciato niente purtroppo infine l'ultimo libro di questa bella carrellata di libri è Inspira Espira Uccidi ormai il mindfulness ha preso qualsiasi campo della mia vita quindi anche la letteratura del genere più thriller lo possiamo chiamare non saprei un libro carinissimo che vi straconsiglio allora sì il protagonista è un assassino lo scopriamo nei primi tre righi del libro quindi non c'è molto da dire su questo la cosa interessante è tutto quello che c'è intorno lui è un avvocato difensore di un criminale quindi una storia che già parte così un uomo che vede la sua vita andare in pezzi perché è sempre al lavoro e aiuta questo criminale diciamo a trovare delle scappatoie che siano più o meno legali per nascondere tutti i suoi traffici illegali il suo matrimonio è in pezzi e sua moglie gli dice guarda per salvare la nostra storia o comunque per salvare te stesso e il tuo rapporto con tua figlia devi andare a questo corso di mindfulness lui va assolutamente sfiduciato cioè non ha assolutamente voglia di farlo invece tutto quello che impara poi si rivela utile in una serie di cose assurde che si ritrova ad affrontare dopo il suo primo omicidio ok vi dico solo questo e quindi è stato molto carino perché ho ritrovato quelle stesse cose che ho studiato anche io e che sono applicate proprio in questa situazione assurda assurde no molto spesso anche illegali e che però ecco l'aiutano a vivere tutti i problemi che si trova davanti in maniera molto più rilassata molto più tranquilla più presente e i problemi si risolvono proprio grazie alla mindfulness insomma veramente una lettura carina che a tratti fa sorridere e che si è rivelata particolare ecco una cosa sicuramente fuori dal comune quindi anche questo ve lo consiglio bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto questi sono stati altri dieci libri quindi come sempre vi aspetto nei commenti per sapere se li avete letti se vi sono piaciuti oppure no insomma qualsiasi cosa chiacchieriamo e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video ciao ciao Grazie a tutti.